Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake marmorizzato al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero di canna, burro, uova, yogurt al caffè, farina di tipo 00, vanillina, lievito per dolci vanigliato, caffè espresso e caffè solubile. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Rieuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, le uova, lo yogurt al caffè, la farina, la vanillina e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Trasferire metà del composto in uno stampo da plum cake. Nel resto del composto aggiungiamo il caffè espresso e il caffè solubile. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Versiamo il composto al caffè sopra l'impasto chiaro. Mescoliamo con una forchetta. Cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake marmorizzato al caffè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!